Noi ci hanno pregato 25.000 euro, li hanno investiti in quelle cose lì, però io gli dicevo sempre guarda io le voglio assicurati, assicurati, sì sì sono assicurati, assicurati, invece da vedere era così. Puglia un po' di nero le pensioni. Sì sì, agricoltori sì, la terra, la terra per mangiare, per vivere, come si dice, ci ha preso tutto. Che pochino che sapeva, si è preso tutto. Come si può fare qui? Io non saprei dove batti il capo. Aretini in lacrime, Aretini in fila, Aretini arrabbiati per la vicenda di Banca Etruria, per la quale, insomma, come sappiamo, coloro che dovranno pagare il conto più salato sono gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati. Aretini in fila, proprio qui allo sportello di Feder Consumatori della CGL, che probabilmente farà gli straordinari, perché, come già annunciato, si prepara un esposto, ma soprattutto i cittadini vogliono capire quanto dei loro risparmi sarà recuperabile. Un bello schifo. Io vorrei prendere qualcuno e torcire i panni quando si lavano, no? Capito? Io ho perso poco, ma c'è chi ha perso di più, ma io, per il mio poco, sono tanti. Io ho 70 anni, capito? Ecco. Ora, sento, non glielo dico, ma ho perso veramente un sacco di soldi. Spero che non siano persi ancora, perché sono troppi, perché si lavora per metterli via e sono di tanti anni fa, erano messi via e adesso non ci riesce più metterli via e quindi erano gli unici che ci sapeva nella famiglia. Quindi io spero che non sia finita e si possa fare qualcosa, perché così è troppo triste e è un governo che sta lì, che dovrebbe essere lì per i cittadini che invece ci fa queste cose quando hanno salvato qualunque altra banca con i soldi dello Stato e a noi ce la fanno pagare. Personalmente mi sembra proprio giusto che per la prima volta noi clienti bisogna pagare per gli errori non so di chi, non so di chi. E' peccato che non sappiamo di chi, perché sennò qualcuno li andrebbe anche a cercare, ma non si sa chi cercare. Ho gli amici, sono gli amici della politica e secondo me è questa qua la ragione per cui non c'è, non ci sono altre ragioni. Solo che loro, non lo so, se non gli interessa, non si rendono conto proprio in che stato mettono una famiglia. Quando si ritrovi che non c'è più niente. Come si fa? E chi è che va a investire? Ma poi certi investimenti minimi, ti ci paghi due bollette l'anno se va bene. Io vado a rischiare i miei soldi per pagarmi due bollette l'anno, non è che io ci facevo budelli d'oro con questo investimento. Io cercavo una cosa sicura, è un paracadute per me, lo era perché non lo è più, perché sono separata, non lavoro. Quindi ora voglio vedere un po' se il governo mi porta a pranzo a casa sua, oppure i signori della Popolare.